Uno stop tecnico in attesa che la ditta che sia giudicata all'appalto si chiarisca con la ditta subappaltatrice per i lavori in cemento armato. Un fraintendimento sembra sui prezzi da applicare che si è purtroppo tradotto con il mancato pagamento degli operai pronti a manifestare davanti al Comune giovedì prossimo. Una vicenda dunque quella dei lavori per l'asilo nido in via Fornace e Bizzarri a Pescara, tutta legata ai rapporti interni tra le due ditte, ma che non ha potuto non creare irritazione sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte dei residenti. Da Palazzo di Città ci fanno sapere che è già stata inviata una nota di soldecito alla ditta appaltatrice affinché mantenga i propri impegni anche con le maestranze e che dal punto di vista formale, come prevede la legge, è stato già pagato il 30% di quanto dovuto e che una volta ricevuto il SAL, documento sullo stato di avanzamento dei lavori, verrà pagato il resto. Senza voler strumentalizzare più di tanto la questione, dopo le numerose battaglie portate avanti per un parchetto raso al suolo in nome del PNRR, i residenti, solidarizzando con gli operai, non possono che manifestare una certa paura per ciò che sta avvenendo. Noi è la nostra paura più grande a questo punto, dopo aver passato il tanto dolore per la distruzione del nostro piccolo parco, adesso la paura è quella che rimane questo bel scheletro di cemento che a Pescara non sarebbe neanche la prima volta. Noi quando abbiamo visto un tir enorme giorni fa a venire e portare via tutto, mezzi e cose dal cantiere, abbiamo pensato va bene, un cambio tecnico di operai, di ditte. Il problema è che è apparso l'altro giorno un lenzuolo, non era un manifesto, era un lenzuolo scritto con un pennello in vernice nera in cui praticamente qualcuno faceva rimostranze sul fatto che gli operai non sono pagati. Ovviamente abbiamo subito immaginato che fossero gli operai di questa ditta e che per questo motivo forse se ne erano andati, non lo so, non entriamo in questioni tecniche, noi in questo momento visto il percorso che c'è stato su questa demolizione abbiamo paura, abbiamo paura che rimanga questo scheletro in cemento senza niente dove noi continuiamo ad assistere a questi alberi ormai ridotti a Monconi, i giochi dei bambini ammassati qui per la discarica, le panchine, tutto ciò che rappresentava per noi il nostro luogo di bellezza, questo piccolo spazio era per noi fonte di grande gioia, di vivibilità.